Musica E' tornato a casa dopo 120 giorni da suo ricovero in ospedale. Giuseppe, o meglio nonno Peppo, come lo ha definito il sindaco di Corbetta, comune in provincia di Milano, era stato ricoverato 4 mesi fa in una struttura sanitaria perché positivo al coronavirus e il 18 febbraio ha potuto riabbracciare i suoi cari e la moglie che lo hanno accolto con grande commozione e affetto. Oggi a Corbetta c'è stato un momento di festa che fa bene al cuore, che ci fa continuare a sperare con forza un ritorno a casa tra le braccia delle persone amate, scrive su Facebook il primo cittadino Marco Bellarini. Un post carico di emozioni che ha visto la gioia di tantissimi concittadini, sono infatti più di un migliaio i commenti di coloro che hanno dato il loro in bocca al lupo a Giuseppe. Queste notizie regalano tante emozioni ma nello stesso tempo fanno bene anche a noi perché ci fanno sperare. Bentornato signor Giuseppe nella sua famiglia e tra tutti i suoi concittadini, scrive un utente. Grazie a tutti.